Allora ragazzi, oggi mentre sono qui che aspetto in macchina vi volevo parlare un pochettino di Patreon e di quello che sto facendo Adesso metterò un altro prodotto, diciamo non si può dire farmacologico perché in realtà non è un farmaco Ma che ogni tanto temo sempre che venga ritirato dal mercato, Dio non voglia Perché è uno di quei ritrovati che da solo racchiude il potere di 15 altri ritrovati a dir poco, basta vedere la composizione E viene bene un po' per tutti, uomini e donne, lo dico sempre un po' ma sembra una cosa banale Ma è così, uomini e donne di tutte le età perché per i giovani è un tonico a tutti i livelli Favorisce in entrambi i sessi l'equilibrio diciamo sessuale e anche ovviamente con ciò muscolare, pelle, capelli eccetera E poi viene utilizzato in medicina estetica, quindi diciamo come rigiovanimento, antiruga eccetera E viene bene in tutti i sensi perché ci sono dentro composti incredibili Organoterapici come anche la tuia, altre cose che magari sono più per il tropismo appunto per la costituzione della pelle Insomma, diciamo altre cose poi le racconto più dettagliatamente Chi è interessato ai miei su Patreon, unitevi, chi è interessato iscrivetevi Quindi diciamo i più interessati fanno parte poi di quel gruppo che ormai è la mia motivazione Auguro a tutti un buon proseguimento e viva Almade e viva tutti noi Ciao, Doc André Rebiz, buon pomeriggio